Eccoci qua ragazzi, buongiorno. La conferenza stampa del nostro allenatore c'è già stata, ma la commentiamo un attimo dopo. Prima parliamo un po' di noi, di questo momento della nostra storia, di questo momento della nostra stagione. Parliamo di noi qui da Milanello, perché a Milanello Giorgio Furlani, il nostro CEO, il nostro AD, un grande milanista, un grande dirigente, ha seguito l'allenamento della vigilia di Milan Sassuolo insieme a Paolo Maldini e Richi Massara. Ha conferma della totale unità di intenti che c'è all'interno del Milan, ha conferma della totale condivisione che c'è all'interno del Milan. Tutte le cose che sono successe in questo mese di gennaio sono state condivise. Lo schema dell'area tecnica che chiede del permesso e della proprietà che fa il diktat è uno schema fantasioso, fantasioso. Serve a fare i titoli, serve a fare i click, ma è pura fantasia. Tutto ciò che riguarda il Milan sul mercato, per quanto riguarda le scelte, è assolutamente condiviso. Non c'è bisogno di chiedere il permesso alla proprietà per fare un'operazione da 30 milioni di euro sul mercato di gennaio. Lo sanno perfettamente da soli e in primis Paolo Maldini e Richi Massara che un'operazione da 30 milioni non è un'opportunità di mercato. Lo sanno perfettamente. E quindi mi piace darvi questa notizia, la notizia della compattezza, della calma, dell'unità, perché solo stando calmi, uniti e compatti si esce da questo momento delicato. Perché il momento è delicato, ragazzi. Non lo nascondo e non lo minimizzo. Il momento è delicato, però attenzione. Siccome lo storico Milan di Silvio Berlusconi è morto per le fazioni, guai alle fazioni, guai a soffiare acqua sul fuoco, guai a rinfocolare il tema delle fazioni, che non ci sono. È guai al fatto che dall'esterno si voglia cercare di riportarla in vita. Cosa che non accade e non accadrà. Lo stesso Paolo Maldini che parla dopo Lazio-Milan. Paolo Maldini dopo Lazio-Milan illustra la linea societaria, illustra il progetto che in questi anni al Milan con Elliot e oggi con Redbird, è il progetto, la visione del club e della proprietà. Quindi da questo punto di vista vorrei che fosse chiaro. Vi do un esempio. Avete letto, ne sarete rimasti colpiti anch'io quando l'ho letto, lo leggo sui siti, lo leggo sui social. Durante la trattativa Zaniolo Maldini aveva chiamato Ibra per rassicurarlo. Zlatan tranquillo, non opporti a inserire Zaniolo nello spogliatoio, ci penso io. Balla colossale. Ma non è che una balla colossale perché ve lo dice l'aziendalista suma o il propagandista suma. Pensateci. Se non c'è mai stata una vera e propria offerta del Milan alla Roma, se la trattativa non è mai stata non solo alle battute finali ma nemmeno a quelle iniziali, come fa il direttore dell'area tecnica a parlare con Zlatan dell'inserimento di Zaniolo nello spogliatoio? Ragazzi, vi prego. E anche se permettete questa narrazione che sta passando del prima e dopo il rinnovo del contratto di Paolo Maldini, di Ricchi Massara e della nostra area tecnica. Le cose non sono mai cambiate. Paolo Maldini se decide di stare in una società, nella sua società, non lo fa da pericoloso sovversivo. Non ci sono comitati o procedure draconiane. C'è sempre il fatto che Paolo Maldini è un responsabile, è un dirigente e quando decide lui che un giocatore può arrivare, deve sempre avere l'ok, l'avallo della proprietà. Lo doveva avere prima del 30 giugno e dopo il primo luglio. Ma non sto dicendo una cosa strana. È una cosa normale che succede in tutte le aziende, in tutte le società di calcio. Non capisco perché al Milan bisogna sempre narrare il cavillo. No, non capisco perché attorno al Milan bisogna sempre andare a spaccare il cappello in quattro. Paolo Maldini lavora con un team molto importante di professionisti. Non soltanto con Ricchi Massara, con cui c'è anche evidentemente un rapporto di feeling, un rapporto di amicizia. Ma sul professionale Paolo Maldini lavora con un team molto importante e ascolta informazioni, relazioni, consigli, indicazioni tutti i giorni. Ma alla fine decide lui. Decideva lui prima del 30 giugno e decideva lui dopo il primo luglio. Poi è chiaro che è normale, è evidente, è giusto e sacrosanto che ci sia l'ok legittimo da parte della proprietà. Ma questo è sempre stato. Non c'è un prima e un dopo in questo senso. Paolo Maldini non ha rinnovato tortocollo quest'estate. Paolo Maldini ha rinnovato promettendo alla proprietà che avrebbe fatto del suo meglio per il bene del Milan. Ma guardate l'ultima campagna acquisti. Adesso è chiaro che i risultati non li ha ancora dati e dal punto di vista dei tifosi, dal punto di vista della critica è discutibile. Certo, non lo nego questo, assolutamente. Però dico anche che i canoni seguiti per la campagna acquisti dell'estate 2022 e del Milan sono gli stessi delle campagne acquisti precedenti. Perché Orighi non vi ricorda le operazioni fatte con Chiere Girù? Perché Decetlare non vi ricorda le operazioni fatte con Leao e Tonali? Decetlare è un nostro patrimonio, noi ci crediamo, è un nostro investimento. E se Tonali è arrivato in un anno e Leao in due, non so quanto tempo ci metterà Decetlare. Ma la scintilla può scoccare da un momento all'altro, perché è una questione mentale, non di valori tecnici. Succede a volte, al di là io vedo che a volte non vanno a buon fine operazioni, acquisti da 70-80 milioni di euro. Se la nostra 35 in questo momento è discutibile, discutiamone pure. Ma stiamo discutendo un 35, non un 70 e non un 80, ragazzi. E dico semplicemente che dal punto di vista dei valori tecnici è unanime il riconoscimento del mondo del calcio nei confronti delle qualità di Charles. A livello di inserimento in un grande club può sempre esserci qualche intoppo che è... Certo, se ingigantiamo la cifra, perché quando il Mina spende 35 sembra abbia speso 350, quando altri spendono 80 sembra abbiano speso 10. E allora qui non ci sto io, qui intervengo io e dico no. Cioè tutta questa pressione addosso a Charles non va messa perché è un nostro patrimonio, è un nostro plus, è un nostro valore e ci crediamo tanto. Quindi questa è la situazione del Milan. La proprietà e l'area tecnica con Elliot e Paolo Maldini, Enrichi Massara e Stefano Pioli hanno scritto la storia del Milan. Ed è un pozzo, il pozzo dal quale dobbiamo sempre attingere il pozzo della storia. Il pozzo della storia è la nostra linfa, la nostra anima, il nostro cammino, il nostro percorso. Why? Why? Ad avvelenarla. La critica fa il suo mestiere, ma noi, noi, noi dobbiamo sapere che in questo momento ci sono buoni valori, buona compattezza e buone cose all'interno del Milan. È l'allenamento seguito insieme questa mattina da Giorgio Fulani, Paolo Maldini e Enrichi Massara nella dimostrazione plastica. Ci vediamo e ci sentiamo fra poco per commentare la conferenza stampa del nostro mister.